lo ricorderemo almeno per tre cose il carnevale 2018 di fano la prima quella del numero chiuso i 15.000 imposti dalla prefettura hanno torto il sonno a comune ed ente carnevalesca su come gestire al meglio questa novità assoluta per fano poi i varchi con i contapersone e le code per entrare al circuito ogni domenica di corso mascherato per i controlli di sicurezza la seconda quella del carro dedicato a rossini che ha assorbito forze e risorse dell'associazione carri stifanesi e l'attenzione di tutti oltre che la sponsorizzazione anche questa prima volta assoluta del comune di pesaro non è certo per la bellezza del corso mascherato abbastanza anonimo rispetto alle passate edizioni e men che meno per i restanti carri di prima categoria nemmeno riaggiornati ma riproposti tal quali l'anno scorso fatta eccezione per un'altra fazione di carristi fanta gruelle gomma piuma per caso che invece grazie a sponsorizzazioni private e risorse risicate hanno proposto due carri nuovi quello del pesce azzurro frutto della matita di mauro chiappa ed un carro di seconda categoria realizzato in collaborazioni con il liceo nolfi appolloni la terza la spaccatura di fatto in due fazioni di ciò che in realtà dovrebbe essere un patrimonio solido della manifestazione ovvero i carristi suddivisi in ricchi e poveri secondo quanto riportato nella conferenza stampa post manifestazione da fanta gruelle furlani e gomma piuma per caso a parte la pioggia di soli cioccolatini piovuta dai carri anche la pioggia di numeri snocciolati nella conferenza stampa di chiusura evento da parte della carnevalesca fanno parte del contesto come il numero totale dei carri allegorici 11 e le 20 mascherate e i 53 eventi collaterali spalmati però in un lasso di tempo che va ben oltre le tre domeniche e poi 123 unità di protezione civile per assicurare la sicurezza oltre alle 60 unità di forze dell'ordine suddivise tra polizia di stato carabinieri polizia locale e guarda di finanza assieme a croce rossa italiana con il suo punto di primo soccorso e le tre squadre di vigi del fuoco per la buona pace della prefettura e della presidente gian marioli per la quale tutto è bene ciò che finisce bene e direi che nonostante le grandi difficoltà con la sicurezza le grandi difficoltà che questa grande manifestazione ha a prescindere da tutto direi che insomma la i numeri sono dalla nostra parte e il popolo del carnevale dalla nostra parte e questo è quello che mi fa tanto piacere ovviamente non parlo solo di numeri effimeri perché sappiamo benissimo che è stato tutto sold out da subito dalle feste eventi collaterali il percorso qualsiasi evento è stato fatto quindi via le polemiche via i campanilismi prendiamo tutti gli insegnamenti che ogni manifestazione ogni evento ci dà ovviamente per rifletterci per fare meglio l'anno prossimo ma direi che insomma la strada è quella giusta ovviamente con tutta l'umiltà del mondo andiamo avanti stiamo ovviamente ragionando già per il carnevale estivo l'idea sia nostra che dell'amministrazione è comunque di fare qualche cosa che parli di carnevale perché ovviamente essendo fanno città del carnevale di carnevale si deve parlare tutto l'anno quindi sicuramente qualche cosa si farà non so dire in che termini e in che forma ma comunque anche quest'estate parleremo di carnevale già forrame a parlare